Presidente, oggi di buon'ora in Episcopio, come mai incontrare l'arcivescovo? Mi capita spesso di incontrare tutti gli arcivescovi della conferenza episcopale abruzzese e molisana. Ritengo i vescovi della Chiesa Cattolica speciali operatori di impegno sociale, costruttori anche della città dei diritti e della sensibilità e della solidarietà. Nello specifico oggi abbiamo parlato delle emergenze sociali di questa città, di questa provincia e di questa diocesi. Una politica, Presidente, che deve cercare di essere sempre più vicina al cittadino. E' questo l'obiettivo? Mi ha rappresentato l'arcivescovo il tema emergente di coloro i quali vivono patologie che poi non trovano più capacità familiari di sostenere quel livello di dolore, l'esperienza del cosiddetto dopo di noi. Stiamo cercando di mettere su carta qualche idea progettuale molto avanzata che metta insieme condizioni di forza e di debolezza delle famiglie, capacità di esperienze sociali e naturalmente il giusto ruolo anche dei livelli istituzionali. Su questo dobbiamo fare qualcosa in più e qualcosa di innovativamente valido. Difficoltà a livello sociale? Il problema è sempre quello del lavoro che non c'è? C'è il tema del lavoro per il quale c'è un primo dato positivo. Nei secondi sei mesi del 2014 per la prima volta riaumentano i numeri delle imprese attive che si iscrivono e rimangono attive in esercizio delle imprese che ricominciano a creare economia in Abruzzo. Il delta come differenziale tra quelle che si cancellano e quelle che si iscrivono è a favore di quelle che si iscrivono nel numero di 320. Questo negli ultimi sei mesi del 2014. Io prevedo che nel 2015 saranno migliaia. Noi faremo l'impossibile per quanto riguarda il primo gesto. Il primo gesto deve essere messo in atto da parte del potere pubblico facendo capire che noi autorizziamo sul piano amministrativo chiunque vuole creare ricchezza e lavoro. Se l'imprenditore ha un'idea di sviluppo che crea ricchezza e lavoro può contare sull'alleanza del potere pubblico della regione. Presidente, chiudiamo con una battuta. Oggi è mercoledì delle ceneri. Lei non mangerà carne e farà anche digiuno? Di sicuro non mangio carne. Per il resto spero di essere all'altezza di questa speciale giornata.